Cosa ti riporta indietro dalla morte? Giorni fa ho fatto un lavoro. Una taglia. Puoi non crederci, ma avevo un socio. Sa che cosa facevi una volta? Io e te ci rivedremo. Hanno cercato di uccidermi, Anna. Se avrai bisogno di me. Adesso mi chiamo Spike Spiegel. Ok, 3, 2, 1, let's go! In questo sistema solare, se non vi prenderemo noi o gli sbirri, lo farà il Red Dragon. Non ci sarà alcun lieto fine. Sembrano le parole di un uomo che non si è mai innamorato. Oh, l'ho fatto. Cos'è successo? Vivevo in un sogno. Ragazzi, la forniamo. Questa squadra è invincibile? Pensavo era una spartizione 60-40. A mio favore, ovviamente. Non sparare, Spike. Ti prego. No! E ora questo che cazzo è? Siamo una squadra. Noi tre, andiamo a prendere qualche parte. Per favore, voglio solo ucciderla un po'. Basta, Spike. Scemo. Siete i buoni? Oppure i cattivi? Dipendi a chi lo chiedi. Allora. Allora. Grazie a tutti.